In questo momento siamo in un momento di staglio, praticamente giovedì abbiamo l'assemblea che ci darà mandato cosa fare all'ufficio provinciale venerdì. L'ultima volta purtroppo non avevamo questo mandato, l'IRS A, perciò non potevamo decidere nulla, di fatto. Oltretutto eravamo partiti una settimana dopo, avevamo questa settimana di tempo che stiamo sfruttando. L'aria è quella che comunque siamo preoccupati, ci mancherebbe. Non so, l'opzione è accettare il 45% che ci ha detto l'azienda di accettare come contratto di solidarietà o potrebbero partire 24 licenziamenti. Tutto sta come giovedì finisce. In azienda si sta lavorando sempre un po' preoccupati, ci mancherebbe anche perché l'atteggiamento dell'azienda l'abbiamo visto un po' troppo rigido. Però è chiaro che facciamo il nostro lavoro fino alla fine.